vai però a posto, dai c'è c'è arrivo, ci taglia la strada vai Giulio, vai guarda il becchino ma che roba guarda ti ho preso prendimi ragazzi prendimi come fai? sei così triste vai pupua ma belli in prima posizione seguito da Rimoldi non riesce a recuperare si ferma ma belli vince la gara buona spettacolo guarda filma bravo non l'ho visto non l'ho filmato è troppo veloce stai dietro stai dietro bravo vai scomata vai che c'è va vieni che si è rigirato hai visto? si marco marco Marca!